Un quadro drammatico sia per quanto riguarda la capacità di creare ricchezze del territorio, la ridotta quindi capacità del territorio di produrre reddito. I dati raccontano in maniera impietosa una provincia, quella di Teramo, in piena recessione economica, con mille imprese in meno, poche start-up ed aziende innovative, un tasso di disoccupazione passato dal 5,5% del 2007 all'11,5% del 2015, un territorio che rappresentava l'avanguardia dell'imprenditoria regionale, ora segna il passo. Utilizzo massiccio della CIG ed esplosione del fenomeno dei voucher cresciuti del 53%, solo per citare alcuni fattori, stanno riducendo sempre di più il reddito dei lavoratori. Sia questo ci si aggiunge anche la pressione tributaria dei comuni, che nel 2015 ha toccato il 76,7% in provincia, record regionale, sia la dimensione della complessità del problema lavoro ed occupazione nel Teramano. Noi ci troviamo con una provincia dove i cittadini di questa provincia hanno fatica sempre più crescente a provare a conservare il proprio reddito, la propria occupazione, hanno una precarietà in alternativa che molto spesso è espressa dai voucher e nello stesso tempo c'è una tassazione locale che è la più alta del centro-sud. Accanto all'analisi della situazione attuale, la CGL di Teramo vuole dare anche le sue ricette per cercare di rilanciare il territorio e il tessuto economico, a partire da due parole magiche, ricerche ed innovazione, che passano attraverso il connubio con l'università. Poi c'è tutto il tema delle politiche del lavoro e dei fondi del masterplan. Di far sì che prima possibile vengano in qualche modo rese fruibili, utilizzabili le risorse e le opportunità che ci sono. Mi riferisco a quelle del masterplan, mi riferisco a quella dell'area di crisi complessa, mi riferisco alla decisione sull'area di crisi semplice per quanto riguarda questo territorio e queste sono per provare comunque a conservare l'occupazione e il tessuto industriale che ancora rimane e che è importante.